La pena di morte per me non è giusta, la pena di morte per me è ingiusta, nonostante questo per oggi. La pena di morte per me è ingiusta, nonostante questo per oggi è ingiusta, nonostante questo per oggi. La pena di morte per me è ingiusta, nonostante questo per oggi è ingiusta, nonostante questo per oggi è ingiusta, nonostante questo per oggi è ingiusta. Grazie. Grazie.